un cordiale saluto buongiorno a telespettatori vera tv questo è una caffè con oggi approfondire il tema della violenza specialmente in riferimento ai giovani con un'esperta le do subito il benvenuto è con noi la dottoressa Danila Luzzi psicologa psicoterapeuta e orientatrice scolastica e professionale della regione Marche buongiorno buongiorno Stefania ben trovata allora vorrei partire subito dottoressa Luzzi chiedendole un'opinione su quanto abbiamo letto in questa fine estate sui quotidiani mi riferisco non soltanto ai casi che arrivano dal territorio marchigiano ma anche quelli che insomma ci hanno colpito di più a livello nazionale dalla violenza sulla giovane 19enne ma anche insomma tutto quello che leggiamo sui social lei che idea si è fatta? A mio avviso c'è stato veramente un incremento incredibile di violenza che ci lascia non solo perplessi ma proprio quasi storditi della crudeltà della totale non curanza delle proprie azioni ma anche non ritengo soltanto gravi le azioni ma anche la condivisione quella curiosità morbosa rispetto all'evento per cui non è soltanto il protagonista ad essere violento ma anche tutto quanto il contorno tutti i gregari di un gruppo spesso si parla di gruppo di violenza di quanto la violenza poi magari nella massa possa amplificarsi. Quindi lei parla anche della condivisione sui social qualcosa che mi ha veramente lasciata basita è stata la rincorsa da parte degli utenti che si sono iscritti ai canali telegram per ai gruppi telegram per rintracciare quel quell'orrendo video sulla sulla violenza no ai danni di questa di questa ragazza e quindi c'è tutto un mondo intorno al branco in questione ma a tutti i potenziali branchi. C'è questo l'esserci e poter partecipare a un reality mi è sembrato no questo a cui fai il riferimento tu sul gruppo a parte il gruppo dei presenti ma proprio il reality messo su telegram che ha spopolato ecco e la domanda è come mai questo questo macabro interesse questa morbosità per un fatto proprio che dovrebbe disgustare che dovrebbe far prendere le distanze e probabilmente ecco quello che sembra a me che sia dilagante è il fenomeno della noia cioè questo vuoto molto grande che viene colmato con l'uso di sostanze con azioni che non sono lo spericolato no una volta le persone facevano erano sensation seeking quindi ricercatori di sensazioni per cui sport estremi o comunque quella un gesto un'esperienza particolare che poteva essere scalare una montagna oppure fare un'azione eclatante come un tuffo no in una parete rocciosa che non da dove non ha fatto mai nessuno invece no adesso sembra che questa noia questo vuoto vengano colmate in maniera totalmente malsana quindi a con violenza con soprusi di tutti i tipi ovviamente non pretendiamo di fare un'analisi sociologica qui in questa sede perché il tempo innanzitutto è ridotto e io personalmente non ne ho assolutamente le competenze però sa c'è chi parla del fatto che la colpa sia un po' di tutti noi cioè il fatto che si dia un esempio a questi giovani sbagliato da parte da parte degli adulti altri invece parlano di ripercussioni del periodo pandemico su questi su questi giovani altri ancora delle mancate risposte da parte della società del mondo del lavoro poche prospettive una scuola che non riesce ad integrarsi o comunque non si riesce a far rete tra la scuola la famiglia le istituzioni e le forze dell'ordine lei che ne pensa allora questo sicuramente è un dato importante nel senso che gli aspetti sono moltissimi e le aree di intervento sui ragazzi possono essere molteplici e sinergiche queste aree possono essere messe proprio in in rete cosa succede che la scuola a proposito di scuola in realtà le scuole sono oberate di laboratori di iniziative cioè la scuola ci prova in tutti i modi abbiamo infatti io parlo riferimento mio è qui per la regione Marche dove ci sono ci sono sono previsti moltissimi interventi investimenti importanti proprio per favorire l'orientamento scolastico però al netto diciamo di un appesantimento burocratico che sempre c'è perché bisogna rendicontare bisogna organizzare progettare eccetera al netto di questo la scuola ci prova e la scuola crea un confine abbastanza sicuro dove appunto degli adulti di riferimento si spendono in maniera veramente sentita per i ragazzi il problema a mio avviso avviene fuori cioè in tutto quel sommerso che si viene a creare pomeriggio la notte cioè al di fuori di situazioni controllate come scuola sport oppure altre attività dove appunto c'è un confine c'è un contenimento quindi la sera tutti questi ragazzi che diciamo non trovano sfogo se non nell'alcol in condotte non non lecite o comunque in condotte lesive in primis per loro perché tutti questi minorenni che fanno un abuso veramente importante di alcol a mio avviso non può non essere considerato cioè semplicemente andando in giro nelle nostre città non troviamo nella periferia io dico le nostre città marchigiane quelle che insomma noi conosciamo dove viviamo ma in pieno centro noi troviamo tutti questi ragazzini che che allo sbando oppure ecco magari nelle case oppure fanno gruppi branco e poi dopo con la noia ripeto questo grande vuoto che sembra quasi sia intollerabile da gestire viene contenuto in maniera negativa con un autolesionismo l'abuso di sostanze l'alcol oppure gesta stupide gesta no ma qual è il consiglio che possiamo dare ai genitori intanto i genitori si accorgono di tutto questo cioè quando un ragazzo giovanissimo mettiamo un 17enne torna a casa alle 4 del mattino io non so onestamente quante famiglie vivono questa situazione no e quanto sia difficile o meno controllare questi ragazzi perché poi diciamoci la verità parlare è un conto ma trovarsi nelle situazioni è un altro quindi lungi da me assolutamente dal puntare il dito oppure mettere nel mirino le le famiglie però ecco che cosa si può dire alle alle famiglie che ci stanno ascoltando no la scuola sta per iniziare l'estate sta per finire e comunque i giovani continuano a uscire frequentare magari persone che i genitori non conoscono quindi non hanno di fatto il controllo che fare come regolarsi si può limitare si può in qualche modo no controllare il proprio figlio questo è vero nel senso che in un primo covid prima si faceva riferimento al covid all'inizio quando siamo usciti da questa pandemia che cosa succede i ragazzi avevano vissuto diciamo una restrizione talmente forte per cui si erano nascosti nei social e non avevano voglia di uscire non hanno anche sviluppato però delle skills cioè delle capacità proprio sociali relazionali empatiche questo a mio avviso nel momento in cui poi c'è stato questo tana libera tutti e proprio tutti fuori inizialmente guardinghi ma poi un'esplosione cioè proprio una sete possiamo dire di stare fuori stare insieme vivere vivere le esperienze vivere le emozioni vivere il gruppo vivere tutto così forte senza lo strumento dell'autoregolazione dell'autocontrollo ecco il risultato insomma dei ragazzi impreparati a regolarsi e questo lo dico che vale anche per per i ragazzi che che in prima persona io vedo in studio ma anche per quanto riguarda i miei figli cioè comunque gli amici dei miei figli siamo un po tutti titubanti tra il volere i nostri ragazzi che facciano esperienza che siano autonomi che siano capaci che vadano fuori ma contemporaneamente quanto sono realmente pronti a gestire tutto e gestire anche i social gestire questa comunicazione che può diventare veramente pericolosa anche perché nel web sappiamo quante insidie ci sono per cui a casa c'è comunque il pericolo perché c'è il web fuori c'è il pericolo perché non ci sono le capacità di comprendere le conseguenze di elezioni o comprendere un futuro pericolo che sta arrivando quindi anche il genitore è impreparato perché nel frattempo il genitore lavora è impegnato e da persone umane anche noi abbiamo bisogno come genitori come professionisti eccetera di un nostro momento di svago quindi questo tana libera tutti in questo momento mi sembra un po incontrollabile ecco oltre al sistema repressivo secondo lei c'è poca prevenzione magari la si potrebbe fare ancora di più nelle scuole risorse permettendo c'era stata anche la proposta di portare negli istituti il tema dell'affettività dell'educazione all'affettività che non è di secondo piano a giudicare insomma dai rapporti che poi hanno questi giovani lei che ne pensa di questo è un'emergenza a mio avviso molto spesso si è parlato di educazione sessuale ma educazione sessuale a 360 gradi sicuramente questo corpo sdoganato questa sessualità portata di mano non rispecchia comunque quello che è il reale perché i ragazzini hanno un accesso incredibile alla pornografia e veramente alla portata di tutti ma non c'è poi un corrispettivo emotivo di elaborazione per cui ben vengano le lezioni sulla sessualità ma sull'affettività oppure un'ora a settimana di empatia come leggevo un articolo no in cui un'ora di empatia semplicemente educazione civica sono materie che non fatte tanto per oppure inserite a caso veramente l'importanza invece di un momento riflessivo in un ambito appunto con un adulto di riferimento a mio avviso è necessario lei è d'accordo che uno dei migliori modi per educare un figlio è dare il giusto esempio non che sia cosa facile però le chiedo anche se a suo avviso gli adulti noi adulti stiamo dando un esempio sbagliato perché poi siamo tutti educatori non parliamo solo dei genitori no tutti abbiamo un nipote insomma un parente in casa più più giovane e quindi che ci osserva che ci osserva e vede come ci comportiamo anche sui telefonini sicuramente questo sicuramente è bello pensarci tutti insieme nel senso che i ragazzi sono il nostro futuro e sono la generazione che può cambiare il mondo che era il nostro pensiero in questa giornata in cui se noi guardiamo andiamo nelle classi andiamo nelle scuole andiamo in giro vediamo veramente le figure professionali di domani e quindi non dovremmo pensare che sono i figli degli altri ma che siamo noi siamo noi domani perché ci incontreremo la terra rotonda per cui quel ragazzo sarà il nostro meccanico il parrucchiere il nostro cuoco il nostro nostro medico quindi i ragazzi sono nostri ognuno il suo sì e no e quindi dovremmo cercare più in un'ottica diciamo comunitaria più in un'ottica allargata di investire su questo tutte le nostre risorse per cui centri di aggregazione a partire va bene sicuramente la scuola lo sport comunque questo è fondamentale lei infatti nel lancio di questa nostra intervista dichiara sui social lanciando un appello di fatto rivolto ai giovani lei dice credete in voi stessi e perseguite i vostri sogni con passione siete la generazione come diceva prima che può cambiare il mondo e allora io le domando in qualità di orientatrice i giovani sanno cosa vogliono sanno cosa vogliono diventare hanno le idee chiare o sono un po' spaisati in questa in questa fase andando nelle classi sinceramente ho trovato sempre meno un'idea un sogno da realizzare e questo mi ha lasciato la mare in bocca perché mentre prima i ragazzi potevano avere dei sogni particolari anche difficili di difficile realizzazione anche una voglia di riscatto magari mi consente una voglia di riscatto dalla famiglia esatto adesso ripeto l'unica parola che mi viene in mente quando parliamo di giovani è questo vuoto grande vuoto cosa vuoi fare domani che sogno hai e spesso la risposta è riferito al materiale quindi vorrei voglio i soldi voglio il successo però tutto un obiettivo veramente vuoto vago ecco non c'è più il sogno di diventare quella professione cioè di intraprendere di creare qualcosa questo l'ho trovato veramente frequente anche perché diciamolo poi per riuscire a svolgere una professione il più delle volte occorre sottoporsi a sacrifici a qualsiasi professione a qualsiasi professione quindi non lasciatevi incantare dai social che ci propongono dei modelli per carità si può anche arrivare al successo in zero secondi avere delle disponibilità economiche enormi in un attimo perché magari si tentano altre strade ma più delle volte sappiamo bene insomma quanto i percorsi siano lunghi, faticosi e sofferti e anche diciamo che l'orientamento per quanto riguarda i ragazzi ma anche gli adulti è durante tutto l'arco della vita perché noi in realtà quello che dovremmo sviluppare sono le capacità di auto orientamento, auto imprenditività che sarebbe proprio quello di capire i propri interessi, le proprie attitudini lavorare su questo e integrare per tutto l'arco della vita nuove competenze, nuove conoscenze vediamo quanto il mondo va veloce e quindi quanto viene richiesto un adattamento un aumento di capacità e queste capacità spendibili in più ambiti perché mentre una volta il lavoro diciamo ci pensionavamo diventava un abito che ci accompagnava per tutta la vita quel tipo di lavoro, quel posto di lavoro oggi in realtà quello che noi ci portiamo sempre dietro è questa valigetta di skills, di capacità e di conoscenze che applichiamo in più incarichi lavorativi oppure in più luoghi di lavoro con nuove modalità quindi questa grande velocità implica la capacità anche di reinventarsi sempre e quindi l'orientamento non è soltanto nelle tappe quelle diciamo evolutive clou che può essere la terza media, il quinto superiore ma è l'arco della vita altrimenti anche un adulto che deve cambiare lavoro o l'azienda e fa un taglio eccetera rimarrebbe diciamo così nel vuoto invece anche per gli adulti è importante sempre conoscersi, approfondire e quindi questo viaggio di orientamento dovrebbe essere come dicevo prima, un po' tutti insieme volto verso il futuro e verso questa grande velocità che l'Europa ha saputo molto cogliere rispetto diciamo all'Italia e nella nostra regione alcune zone che sono particolarmente sofferenti che noi non vediamo, parlo delle zone terremotate dove c'è una realtà più complessa, più difficile per potersi reinventare Certo, senta, restando sul disagio giovanile accade poi che quando si verificano dei fatti incresciosi i genitori, la famiglia resta in qualche modo sconvolta e vede dinanzi a sé un qualcosa del proprio figlio che non conosceva qual è secondo lei la fascia di età più delicata o meglio qual è il periodo della vita di un ragazzino da cui bisogna iniziare ad intervenire, a monitorare veramente Sempre più precoce, questa è la mia risposta perché stavo pensando alla domanda dare un confine in realtà già agli 11 anni, 12 anni abbiamo le prime esperienze preoccupanti ecco, anche in casa il potere avere accesso ad alcolici e quindi non soltanto dobbiamo pensare al degrado ma famiglia normalissima in cui il ragazzino per bravata eccetera prova anche il pomeriggio Informarsi su chi frequenta il ragazzo Assolutamente, cercare il più possibile un canale di comunicazione di avvicinare il genitore, si deve avvicinare il ragazzino a partire dalla musica è una musica particolare, ora va molto questa musica che comunque fomenta anche i ragazzi forse è una parola un po' forte quella che ho usato però in realtà il contenuto può, diciamo che grado di elaborazione anche di quel contenuto di quel testo c'è per un ragazzo di 13 anni dove si parla di money, money, money soldi o sostanze o certe condotte che sembrano innocenti per un orecchio che magari ascolta veramente la musica o la prende così alla leggera per altri c'è un'emulazione Senta, secondo lei a che età bisogna regalare il primo telefonino al figlio? No, ma proprio voglio essere lontana da ogni ipocrisia perché poi sappiamo benissimo che se non lo fai tuo figlio ti assilla per mesi e ti porta allo sfinimento finché tu prendi e glielo regali Sì, in realtà anche è un po' tagliato fuori Anche per sicurezza Cioè se non ce l'ha è un po' tagliato fuori Esatto Io penso che l'età giusta possa essere la prima media quando coincide con anche la scuola utilizza molto i docenti spesso utilizzano la tecnologia lo strumento per l'assegnazione di compiti o comunque creare un gruppo classe però mi è capitato perlomeno quello che è stata un po' l'esperienza che ho potuto toccare con mano c'è il controllo della chat con il docente che quindi assegna i compiti dice cosa no, come svolgerlo oppure chiede una consegna tramite un supporto eccetera quindi l'età secondo me potrebbe essere quella la più indicata che concilia anche col fatto di una passeggiatina con le amiche o di andare o con gli amici di andare insomma al parco e poterlo avere ma col ferro cioè col serrato controllo del genitore perché è veramente pericoloso però è davvero anche difficile no controllare quali contenuti ecco il minore in quel caso guarda ecco assimila perché sappiamo bene che poi sì ci sono anche delle pseudoregole su vari siti che insomma possono essere arginate la verità e che siamo ancora in balia di una giungla poco regolamentata che tutela per nulla i minori no purtroppo è una finestra sul mondo e non è un mondo diciamo sicuro questo lo sappiamo anche i ragazzini le ragazzine che condividono spesso anche una foto della propria intimità attenzione ecco vogliamo lanciare un messaggio su questo sì perché segnaliamo perché insomma magari si fanno a volte cose con leggerezza non si pensa alle conseguenze e poi ecco ci si ritrova in situazioni davvero terribili no con tutta la buona fede che ci può essere poi genitori corrono e deve intervenire la polizia postale perché fare questo profilo un ragazzino una ragazzina che fanno un profilo su Instagram poi si è in mano al web e spesso non c'è più il controllo di quel profilo il ragazzino scambia il numero di telefono la ragazzina con l'ignoto dall'altra parte e quindi inizia una chat e spesso chat erotiche e questo mi è successo presso il centro clinico dove lavoro per cui sempre più spesso mi ritrovo famiglie che mi affidano per una crescita più sicura ai propri figli e per cercare di gestire quello che poteva essere l'irreparabile però perché si cade in questo tipo di relazione chiamiamola relazione che poi insomma è un contatto web che sfocia sull'erotico cioè le ragazzine hanno voglia parlo prevalentemente delle ragazze perché poi magari sono le prime ad essere addescate ma equivale cioè vale anche per i giovani i ragazzi che cosa c'è dietro cioè c'è la voglia di avere attenzioni di sentirsi belle non so sì di sentirsi grandi e più ripeto si lega secondo me anche con tutto questo sesso sdoganato questo corpo così ovunque per cui bassa autostima o un che abbiamo avuto tutti in quella fascia d'età io parlo di giovanissimi nel senso che il fenomeno è più preoccupante per tutta la fascia di età che va dagli 11 12 anni fino ai 20 25 perché poi in realtà scema nel senso che ci troviamo spesso di fronte al caso della ragazza con una relazione tossico violenta eccetera però è il caso invece la massa quella preoccupante è quello dei ragazzini dei minori veramente piccoli credo che sia un tema su cui ovviamente torneremo perché è uno dei temi di più stretta attualità io purtroppo devo chiudere dottoressa e la ringraziamo per essere stata con noi grazie a voi grazie una finestra e speriamo che possa essere stato così d'aiuto di riflessione più che altro nei nostri telespettatori ringraziamo quindi la dottorissa Danila Lussi psicologa e psicoterapeuta orientatrice scolastica e professionale della regione Marche grazie per essere stata con noi davvero grazie a voi vi aspettiamo tra pochissimo dopo la pubblicità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti